Io sono Raimondo e il cane è vagabondo Sì, ma cara, sono quasi tre anni che sto chiuso qua dentro manco fossi carcerato una volta mi conosceva tutto il bosco ero libero e bello, un cane come il poto la mia vita era una bardoria poi arriva una, una ragazza mi vede e dice poverello, portamolo al canile amica mia che scherzetto che mi hai fatto fine dalla libertà e mo? e mo sto qua, che devo fare? sto con Diana, amichetta mia pure lei è nata libera gli è presa proprio male dei fini in canile fortuna che c'è sto io almeno se facciamo compagnia potremmo gore, piar soli perché alla fine siamo liberi dentro però sai una cosa i suoi mani piano piano mi stanno a diventare simpatici e se una famiglia mi si portasse a casa mica gli direte no anzi quando la gente arriva davanti a sta gabbia Diana mi chiama e mi fa vieni ora, questa volta tocca a noi niente niente questa volta buona non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è no c'è non c'è non c'è un passaggio